A Dagnano i cavalli della seconda corsa sono già agli ordini dello starter, al via i quattro anni sulla distanza del doppio chilometro e il premio Granito. Sono in 11, circa 200 metri allo stacco della macchina. La rottura di Dylan Trebb. Denda Boi, spegnato a largo da Demetrator. Si unisce alla lotta anche Duelgar. Demetrator si ritrae lungo i paletti. Duelgar viene respinto ma riesce a sistemarsi secondo davanti a Demetrator. Dopo 200 metri in 14,3 le posizioni sono già ben delineate con il favorito Denda Boi al comando. Duelgar nella sua scia precedere Demetrator e Dikiki, Alor per linee esterne, Donghi, Wappel e Jay e Diogene Laser. 30 scarsi il quarto iniziale. Sta riducendo drasticamente il ritmo il leader da Nesta F che va a completare i 600 in 46,2. 16,2 l'ultima frazione. Tutti ad accettare il ritmo di Denda Boi. Duelgar in posizione favorevole alla corda. Donghi, Wappel e Jay che sia adeguata a largo. 1,2 gli 800. Adesso Donghi, Wappel e Jay raggiunge Denda Boi in testa alla gara e lo costringe ad accelerare. Seconda pariglia esterna per Diogene Laser. Terza per Di Frank Bred quando viene completato il primo chilometro in 1,16 e 3 con 14,3 di ultima frazione. Torna ad accelerare Denda Boi che completa la curva in 15,6. Si viaggia costantemente sul piede dell'1,16 quando mancano circa 700 metri alla conclusione. Denda Boi avvicinato da Donghi, Wappel e Jay. 14,5 gli ultimi 200 metri. Un tentativo in terza ruota di D Frank Bred che non sortisce effetto anche per l'anticipo di Diogene Laser che sul passo cerca di scavalcare Donghi, Wappel e Jay. Miglio in 2,1. Denda Boi in controllo. Duelgar nella sua scia. Lo scatto dalle retrovie anche di Dionisio. Incresso in retta. Denda Boi caricato in mano da Antonio Simioli che gli richiede l'allungo definitivo. Sposta Duelgar e prova ad impensierirlo ma Denda Boi si distende bene. Denda Boi va a chiudere nei confronti di Duelgar mentre per il terzo resiste Donghi, Wappel e Jay. Per i numeri 1,3,7. Media che dovrebbe aggirarsi intorno all'1,14,5 sul doppio chilometro. Due successi dal rientro per Denda Boi. L'interessante Nesta F e Vittoria Cerullo che a tre anni prima dell'infortunio aveva realizzato anche il record della generazione in pista piccola. Adesso lo ritroviamo sugli scudi ancora per il training di Domenico Minopoli doppio a seguire da allenatore e la guida di Antonio Simioli. In questo caso i colori del signor Renato Cerullo.